Don Vincenzo Dosanova Finalmente la SD San Paolo, madonna delle grazie, hanno il campo Il campo in erba sintetica, Giovanni lo diceva sempre, finalmente il sogno è diventato realtà Tutti i sogni si realizzano, basta crederci Quindi ringraziamo anzitutto il Signore che ci ha dato questa opportunità Ringrazio i collaboratori del pool sportivo che con il loro dinamismo Hanno voluto tenacemente quest'opera che si è realizzata Adesso i ragazzi ne possono beneficiare e quindi giocheranno più serenamente, più tranquillamente Senza anche il rischio di farsi male E quindi godiamoci questa realtà Ci auguriamo che i nostri ragazzi frequentando, partecipando, impegnandosi Vengano liberati dai rischi, dai pericoli che corrono nella società di oggi Che sappiamo quanti pericoli offre soprattutto ai ragazzi E allora ben venga questa realtà, siamo tutti contenti E speriamo di potercene godere per tanti e tanti anni Prima di lasciarla tagliare il nastro, come giusto che sia Due parole per questi ragazzi Perché effettivamente questo polmone verde in un certo qual modo diventa la casa di questi ragazzi Un punto di riferimento perché purtroppo qui a Madonna delle Grazie Oltre alla parrocchia e al campo sportivo Le strutture che mettiamo a disposizione non c'è altro E allora è una gioia vedere i ragazzi frequentare, divertirsi, giocare, socializzare Crescere, lasciatemelo dire, diversamente Perché gli si vuole offrire anche dei contenuti, dei valori belli Noi non vogliamo farne solo dei campioni Vogliamo farne soprattutto dei bravi cittadini, dei bravi cristiani Delle persone che possano affrontare la vita con maturità e con senso di responsabilità Grazie mille A te Grazie mille